La proposta ministeriale di fare una revisione delle piante organiche dei tribunali penalizza in modo ingiusto e irragionevole il distretto molisano. Ne è convinto il giudic Enzo Di Giacomo, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, sezione distrettuale del Molise. Una preoccupazione che è stata espressa formalmente in un documento approvato dall'Aggiunta distrettuale della NM e inviato al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia, al Presidente della Regione, a quelli delle due province e degli ordini forenzi, ai magistrati e ai parlamentari molisani. Chiediamo una modifica della proposta del Ministero, fa sapere Enzo Di Giacomo, e il documento che abbiamo approvato verrà discusso in commissione dalla CSM il 7 febbraio e prima della riunione ho chiesto e ottenuto un incontro presso lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura per sottoporre la questione insieme anche ai presidenti degli ordini forenzi del distretto. Lo stesso faremo, continua Enzo Di Giacomo, al Ministero della Giustizia. In sostanza rileva la giunta dell'ANM. Pure se il Molise non è affatto interessato dalla recente riforma delle circoscrizioni giudiziarie, i tribunali di Sernia e Larino dovrebbero avere ciascuno un giudice in meno, tutto ciò contravvenendo allo spirito della legge con un aggravio delle condizioni di lavoro nei due palazzi di giustizia, già con poco personale e sopravvenienze che nell'ultimo triennio, e non solo nel penale, sono aumentate sensibilmente. A Campobasso inoltre è previsto un solo giudice in più, pur essendo un tribunale distrettuale. Al momento, spiega Enzo Di Giacomo, condividendo la posizione già espressa dal presidente del Tribunale del Capoluogo, ci sono 11 magistrati, compreso lo stesso presidente e quello di sezione, ma dovrebbero essercene 15, considerando il rapporto della media nazionale tra magistrati giudicanti e requirenti, riferita anche ai tribunali non distrettuali. Eppure, sottolinea, si vuole aggiungere solo un giudice e il Palazzo di Giustizia a Campobassano sarebbe così l'unico in Italia ad avere un organico sottodimensionato rispetto appunto alla media nazionale. La NM Molisana conclude e chiede al Consiglio Superiore della Magistratura di esprimere parere contrario alla proposta ministeriale riguardo al distretto della Corte di Appello di Campobasso e che il ministro modifichi la proposta così come ha auspicato nel documento.